Professore Ciaccio, che cos'è la medicina di laboratorio, se ne parlerà a Erice in questi giorni? La medicina di laboratorio è quella disciplina che oggi permette nel 70-80% dei casi di risolvere la problematica clinica che il paziente ne presenta perché grazie al dato di laboratorio, quindi alla medicina di laboratorio, noi siamo in grado non solo di poter diagnosticare la malattia, la patologia ma anche di poter identificare la causa che determina la malattia e questo è di grande importanza perché il poter identificare lì dove nasce la malattia, quindi la causa della malattia ci permette non solo di diagnosticarla spesso in una fase preclinica, quindi prima che il malato abbia i sintomi da quella malattia ma soprattutto di poter fare una diagnosi precoce, una prognosi più precisa e anche in epoca di medicina di precisione, di medicina personalizzata il potere personalizzare la terapia, questo grazie alla medicina di laboratorio oggi è realizzabile. Ecco, ne parlerete ad edice non solo tra medici di laboratorio ma anche soprattutto con i medici clinici, cioè con chi materialmente si confronta ogni giorno con i pazienti. Assolutamente. Che indicazioni darete ai medici clinici, a chi sta in corsia per camicia. Assolutamente, oggi è necessaria, direi indispensabile l'integrazione tra la medicina di laboratorio e la medicina clinica, cioè il medico di laboratorio deve parlare e integrarsi col clinico perché l'interpretazione del dato di laboratorio deve essere fatta dal medico di laboratorio ma integrandosi con il clinico, con gli altri dati che il clinico ricava dal malato, la visita medica, gli esami imaging, quindi diciamo è un puzzle che comprende più professionisti dove il medico di laboratorio integrandosi col clinico o con lo specialista delle diverse discipline cliniche permette di arrivare ad avere in tempi brevi e con maggiore certezza quello che è il problema che il paziente presenta. Ma direi di più, non solo il problema clinico che il paziente presenta ma anche il potere predire prima che il soggetto abbia la malattia, abbia la sintomatologia, il potere predire il rischio che il soggetto vada in conto ad una specifica malattia. E questo si può fare solo con la medicina di laboratorio. C'è tutta una serie di screening grazie a biomarcatori di cui noi oggi siamo in grado di determinare ci permettono di dire a quel soggetto a quel rischio basso, medio, elevato di andare incontro a quella specifica patologia. Quindi fare prevenzione. Possiamo dire, per semplificare, che in un'indagine medica voi siete un po' come i rischi che danno gli strumenti agli investigatori per capire che è colpevole in qualche modo. Assolutamente. Quella che lei ha chiamato la causa, l'eziologia della malattia, l'origine della malattia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Lei pensi alle nuove branche della medicina di laboratorio, delle certe scienze omiche, cioè quelle, la genomica, la proteomica, la trascrittomica, la metabolomica, che ci permettono di capire dove nasce il danno, a livello del gene che è mutato, a livello del trascritto, cioè della proteina che viene codificata, che è alterata, e quindi capire lì dove veramente c'è l'anomalia. E quindi anche poi in potere costruire dei farmaci che siano personalizzati a quella persona che ha quella specifica alterazione molecolare. E quindi in epoca, ripeto, di medicina personalizzata e medicina di precisione, la medicina di laboratorio è fondamentale, centrale, protagonista, direi oggi nella sanità del terzo millennio.